Ditemi la vostra nei commenti, oh sei buggato, guarda qua cosa assurda, vabbè ci danno di nuovo le ricompense No, 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 ma video epico, video epico Detto ciò, noi questa qua l'apriamo nel video di domani Non ci credo, ma, ma come è possibile? Partiamo così con il botto con la pallina d'oro È successo? Vi lascio un attimino prima di unboxare Praticamente sì raga, dopo qualche problema di connessione di wifi, cose mistiche Mi apparsa nello scorso video dove parlavo del lancio globale di clash mini Questa palla è la palla leggendaria, l'apriamo adesso Dovrei trovare quasi sicuramente un mini Quindi vabbè, noi apriamo, guardiamo un attimino Decoia Dipted, nabbissimo in questa season Ma sai, per il meme che fai, te ne privi? E no che non te ne privi, Decoia Dipted trovato molto molto interessante E vabbè, continuiamo con gli unboxing raga, c'è meglio di così? Non ci poteva andare, finalmente aggiungerei perché Oh, eccolo qua, Decoia Dipted Adesso possiamo trovare solamente il Chompy Eccolo qua, il Chompy Vabbè, intanto sono molto molto contento di aver trovato il Decoia Dipted Che andremo a potenziare, ok Lo potenziamo, intanto abbiamo tanti frammenti Così avanziamo pure, ma ti immagini trovo qualche altro mini Impossibile, però Ok, potenziamo ancora, pian piano Lo raffiniamo Non credo di riuscire ad arrivare oltre al 5 Esatto, però comunque Decoia Dipted che pian piano ce lo stiamo potenziando Abbiamo sbloccato credo una sua nuova emote Vediamo Eccola qua, perfetto Unboxing No, no raga, giornata epica Giornata epica Lo Sharkbait, sono contentissimo Io basta che trovavo mini nuovi ed ero contento oggi Sharkbait Mamma mia che godure ragazzi Giornata epica Torniamo su Clash mini È assurdo Ho trovato quindi il Decoia Dipted E lo Sharkbait Che era forte Questa season non credo sia forte Come lo scorso bilanciamento Però mi fa molto piacere Dai che pian piano riuscirò a trovare tutti Perché qua mi mancano ancora Questi 4 mini Il Monaco che in realtà ho Eppure la Valkyria che in realtà ho Quindi Ora ci proviamo Sia lo Sharkbait Facciamo un programma un po' tutti e due Mettiamo il Decoia Dipted Che eccolo qua Lo mettiamo al posto suo E mettiamo lo Sharkbait Che non so minimamente come funziona qua Ho trovato pure l'apprendista E quindi a questo punto Ho i Fai 30, 31, 32 Proviamo tutti questi 3 nuovi mini Un bel like, iscrizione e campanellina E partiamo Io non so in realtà che video sia questo Non so come lo intitolerò Non so come lo andrò a rinominare Però video sicuramente mistico Decoia Dipted Oh finalmente che goduria Bello bello Lo Sharkbait Che ha Mamma mia raga 4 di Lisir Però dovrebbe essere alquanto forte Quindi mettiamo lo Sharkbait qui Mettiamo Lo Skeleton King qua E vediamo 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 Decoia Dipted L'ho spostato così poi Fa la muta no Ok lui ha messo una pecca Però comunque Ottimo Sharkbait che devo potenziarlo Immagino Esatto Si 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 Devo potenziarlo Per far rifare l'abilità subito Fin dall'inizio O comunque fa pochissimo danno Cioè fa 3 di danno Però il pecca non piglia danni Ma che stiamo dicendo Vabbò Natureborn con Mini becca Sono la fine del mondo Cioè sono imbattibili Sposto il Decoia Dipted Metto l'apprendista monaco Qua per il meme E potenziarlo Sharkbait con l'energia Ovviamente E basta Anzi no Potenziarlo Sharkbait Pure con questo Vediamo qua che fa L'energia No niente raga Non parte con l'energia Peccato Che scam Che scam Raga che scam Io fortunatamente Però c'ho l'apprendista monaco Che può essere utile contro il boccia Non so Non so usare questi mini È abbastanza ovvio Però vediamo se riusciamo a far usare lo Sharkbait Bello Bello Mamma mia con lo squadone Se riesce a fare l'abilità però è rotto È sbroccato totalmente fuori dal mondo Ottimo Metto l'apprendista qui Giustamente E mi potenzio pure lo Sharkbait Ci vediamo un po' le statistiche Allora comunque Sharkbait bellissimo Io spero faranno di buona skin Dove è tipo un diavoletto Ascoltate È un diavoletto E fa uscire da sottoterra Tipo un diavolo che ti ma Cose mistiche Un mini troppo bello Abbiamo trovato pure Eccolo qua l'apprendista monaco Che ho già potenziato da un bel po' Ed è troppo caro Cioè il monaco piccolino Troppo bellino Poi abbiamo trovato pure il decoy addicted Che ci sta Prossimo passo Cercare il Chompy E poi spererei Nel Dark Prince Nel Principe Nero Nella Sailor Che è tipo il mio mini Esteticamente più bel Bellissimo Bellissimo È bellissima la Sailor Però niente vabbò Detto c'è ragazzone Spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando un bel like Iscrizione Guardate i video che sono Appena farsi qua accanto Che sono più bello dell'altro Fate l'abbonamento E supportarmi E noi ci vediamo in un prossimo video Su Clash Mini Ciao ciao